8 incredibili rimedi casalinghi per il diabete di tipo 1 Si dice che l'India sia la capitale del diabete nel mondo. Con quasi 50 milioni di persone affette da diabete in India, il paese ha una grande sfida da affrontare. Per prima cosa, sappiamo cos'è il diabete. Lo zucchero elevato nel sangue si chiama diabete. Ci sono due ragioni principali dietro il diabete, uno è quando il nostro corpo smette di produrre insulina e il secondo è quando il corpo non risponde all'insulina prodotta dall'organismo. L'insulina viene metabolizzata dal corpo utilizzata come energia, che viene trasportata alle cellule. Diabete di tipo I Il diabete di tipo I di solito si verifica nelle persone che hanno meno di 20 anni ed è per questo che viene anche chiamato diabete giovanile. In questo tipo, il corpo diventa parzialmente o completamente incapace di produrre insulina. Il diabete di tipo I è una malattia autoimmune. In questo, il tuo sistema immunitario attacca i pancreas da dove viene prodotta l'insulina, rendendo in tal modo il pancreas inefficiente o incapace di produrre insulina. Il diabete di tipo I non può essere prevenuto, può essere controllato solo con cambiamenti di stile di vita sani. Puoi anche aiutarlo a controllarlo con semplici rimedi naturali. Foglie di mango Può sembrare incredibile, ma consumare un tè a base di foglie di mango fresche può fare meraviglie per le persone con diabete. Tutto ciò di cui hai bisogno sono 15 foglie di mango, fai bollire per almeno 15 minuti e bevilo dopo averlo messo a stomaco vuoto. Si dovrebbe bere almeno una volta al giorno per bilanciare i livelli di zucchero nel flusso sanguigno. Uva spina indiana Bevendo l'estratto di questo frutto, il pancreas funziona in modo ottimale. Alma contiene vitamina C che aiuta a mantenere sotto controllo i livelli di zucchero nel sangue. Aggiungendo due cucchiaini di succo con un bicchiere d'acqua e bevendolo a stomaco vuoto ogni mattina, il bambino riceverà il sollievo necessario. Foglie di basilico Le foglie di tulsa sono ricche di antiossidanti che aiutano a ridurre lo stress ossidativo. Inoltre contengono oli essenziali che aiutano a ridurre i livelli di zucchero nel sangue e nel corpo del bambino. Per curare il diabete di tipo 1 del tuo bambino, prendi due cucchiai di foglie di basilico e bevilo a stomaco vuoto al mattino. Jamun Jamun o prugna nera contiene tannini idrolizzabili, acido e lagico e antociani. Questi composti aiutano a ridurre i livelli di zucchero nel sangue. Secondo alcune ricerche, i semi e i frutti hanno effetti ipoglicemici e aiutano a ridurre i livelli di zucchero nelle urine e nel sangue. Cerca di includere la frutta ogni volta che è disponibile in quanto è un frutto stagionale. Puoi consumare frutta. Semi e foglie di questa pianta per ridurre il livello di zucchero nel sangue. Puoi mangiare la polvere di semi di jamun a secchi. Guaiava. La guaiava è un concentrato di fibre e vitamina C. Gli studi hanno dimostrato che entrambi i nutrienti sono essenziali quando si tratta di mantenere i livelli di zucchero nei diabetici. L'alto contenuto di fibre nel frutto supporta il metabolismo che alla fine porta ad un migliore assorbimento dello zucchero. E gli antiossidanti scongiureranno ulteriori fattori che contribuiscono al diabete di tipo 1. Zucca amara. Zucca amara. La zucca amara è utile per controllare il diabete a causa dei suoi effetti ipoglicemizzanti. Questo accade a causa della sua sostanza chimica chiamata cerente. Carella tende ad influenzare il metabolismo del glucosio su tutto il corpo e non solo su un organo. Aumenta la secreazione di insulina pancreatica per prevenire la resistenza all'insulina. Quindi, la zucca amara è utile sia per il diabete di tipo 1 che per quello di tipo 2. Tuttavia, non può essere utilizzato per sostituire completamente il trattamento con insulina. È ideale per bere succo di zucca amaro a stomaco vuoto ogni mattina. Inoltre, è possibile includere un piatto preparato con zucca amara ogni giorno nella vostra dieta per il massimo beneficio. Aloe vera. Alla ricerca dei migliori rimedi casalinghi per il diabete, non dovresti passare l'aloe vera. Per i migliori risultati, puoi usarlo come segue. Prendi questo, un cucchiaino di gel di aloe vera. Un cucchiaino di foglie di alloro in polvere. Un cucchiaino di polvere di curcuma. Processi. Prendi tutti questi ingredienti in quantità uguali in una piccola ciotola. Mescola bene e poi prepara il composto prima di pranzare o cenare. Si consiglia di seguire la stessa procedura ogni giorno prima di consumare il pranzo o la cena fino a quando non si ottiene il controllo del diabete. Il dito di ledi. Il dito Olocra della signora è uno dei migliori rimedi domestici efficaci per il diabete. Contiene elevate quantità di vitamina A, C, K e B6, potassio, magnesio, zinco e altre fibre solubili che lo rendono un ottimo stabilizzatore di zucchero nel sangue e quindi cura il diabete. Inoltre, i suoi semi contengono inibitori alfa, glucosidassi che combattono efficacemente gli amidi che si convertono in glucosio. Inoltre, contiene molecole polifenoliche che riducono i livelli di glucosio nel sangue e riducono il diabete. Ecco le guide dettagliate da seguire. Prendi questo, 2-4 Ocraudito della donna. Acqua, un bicchiere. Processi, in primo luogo, prendi gombo e sciacquali accuratamente. Successivamente tagliare la coda e la testa degli Ocras e poi tagliarli verticalmente dal centro per ottenere due pezzi grandi dal dito di una donna. Versa questi pezzi nell'acqua e coprili. Lasciare a bagno per tutta la notte senza disturbarlo. Bevi quest'acqua la mattina seguente a stomaco vuoto. O semplicemente, puoi includere il dito della donna nella tua dieta quotidiana per ottenere completo sollievo dai sintomi. Si consiglia di continuare a eseguire il processo ogni giorno per alcuni mesi per ottenere il controllo del diabete. Grazie per la visione.